La Decor Twist Decora è uno strumento con 20 trafili intercambiabili che permette di lavorare la glassa fondente in tanti piccoli cordoncini per guarnire le tue realizzazioni. Prima di qualsiasi utilizzo è consigliabile sciacquare l'attrezzo smontato, svitare la ghiera, avvitate completamente senza forzare la vite, rimuovete il tampone e svitate la vite fino in fondo. Lavorate la pasta con una goccia di glicerina fino a renderla morbida e malleabile. Rimontate la Decor Twist avvitando la vite nel serbatoio fino in fondo e senza forzare. Infilate il tampone e svitate la vite tenendo fermo con un dito, quindi svitate del tutto. Ricavate un tubetto con la glassa fondente e inseritelo nel serbatoio della Decor Twist. Scegliete la trafila desiderata, posizionatela in prossimità della bocca del serbatoio e avvitate la ghiera. Iniziate ad avvitare delicatamente la vite senza mai forzare. Attendete la fuoriuscita del cordoncino e quando la fuoriuscita dello stesso si arresta, ripetete la stessa operazione, senza fretta, fino a che il decoro è della lunghezza che vi occorre. Sfruttate la vostra fantasia e le venti trafile presenti nella confezione per realizzare i decori di ogni genere. Ad esempio, con una striscia di glassa ed un paio di forbici potete realizzare delle meravigliose rose da usare per dare valore alle vostre torte. Date forma alla vostra fantasia con la Decor Twist Decora. Visita il nostro sito www.decora.it per scoprire tante ricette e novità. Grazie a tutti.